io la vedo un po come chi aspetta il finale del trono di spade di martin la domanda si intitola star citizen virgola un progetto come star citizen che nasce col crowdfunding nasce con la speranza di creeremo il gioco perfetto perché la promessa lì era il morbido ma col single player ma con la storyline ma dove potrei fare tutto in un universo di la c'è erano dei tempi credo di no man sky che non si sentiva un vi daremo tutto l'unico videogioco ma ci possiamo ancora credere nel 2021 progetti come star citizen o siamo rimasti dei bambini di 11 anni che credono a tutto è una domanda le industrie allora in realtà so che ora incomincia essere una cosa solida il gioco cioè incomincia a esserci cioè nel senso però guarda quello credo che sarà uno di quei casi che chi studierà fra qualche anno il mondo del gaming perché vorrà diventare un marketer e finirà nelle grandi vertici del non lo so di che cosa credo che sarà uno di quei casi videoludici e lì io non ho fatto la campagna di star citizen ma a quel punto secondo me hai due scelte è un po come io la vedo un po come come chi aspetta il finale del trono di spade di martin o ci credi e aspetti oppure ti arrendi ti godi quello che hai e tutto quello che arriva dopo è bello cioè è un più tu hai star citizen oggi te lo godi quello che arriva arriva se non arriva tu comunque te lo godi quello è un caso talmente unico che è difficile secondo me fare una valutazione del possiamo crederci o no anche perché potrebbe cioè se mantenesse qui siamo nella veramente come dice nella nel mondo della speculazione le aspettative potrebbe dare origine a una corrente interessante che è quella di finanziare dei monster project non so nemmeno come definirli perché non si può definire un tripla si può definire una roba decontestualizzata credo che loro si definiscano un quadrupla credo un quadrupla se non mi ricordo male sì però sostanzialmente è un progetto epocale perché dal punto di vista di raccolta fondi credo che sia già a pieno titolo il videogioco più costoso della storia della terra perché siamo arrivati a più di 300 milioni 400 milioni arrivati ora ci si facevano 4 4 5 della sto fa parte 2 una cosa del genere però di contro quando si è parlato di progetti memorabili in questo modo c'è di ambienti vasti super server intensive super community intensive li abbiamo visti realizzare in passato con molto meno investimento come software as a service come fra come diciamo come infrastrutture videoludiche dai tempi di online di world of warcraft dei primi morti un po più evoluti certo ora qui promettono cose incredibili però l'idea è quella di trasformare quasi il medium no perché li vogliono vendere le navi certi compri la nave tra con i soldi e va in giro con la nave con i soldi quindi questo ibrido fra realtà virtuale non intesa come via rama come un compromesso fra quello che vivo e i miei possedimenti la mia vita second life nello spazio esatto second life quasi 30 anni dopo insomma 25 anni dopo la questione interessante che in realtà fino a oggi su kickstarter per il mondo videoludico non sono stati fatte grandissime raccolte fondi da grandi grandi software house ci sono stati dei grandi casi penso a scemo 3 ritorno di wonderful one su console attuali ci sono stati c'è stato sono sempre non così gravi grossi delle delle scommesse cioè scemo 3 oggi venderebbe boh facciamo anzi lì fu fatta una cosa pure l'impostrana perché un po alla diciamo come on cioè nel senso che prima era un voglio fare scena 3 non me lo fa fare nessuno perché nessuno lo vuole datemi i soldi poi in corsa arriva sony che lo che lo finanzia no ma non ti sorprende il fatto che un kojima non faccia un kickstarter chissà che succederebbe ma perché lì conviene al publisher avere averlo per sé cioè è chiaro che nel momento in cui kojima è libero è un cane sciolto soprattutto poi con la cosa che si è portato dietro con tutte le sfortune e il trattamento pessimo che c'è stato è chiaro che lì il primo con i soldi e il primo che gli dice sì vieni con me fai fai quel che ti pare cioè non mi fai i feti nella pancia le i most fallo non mi importa e lì è chiaro che il primo che arriva vince perché è un nome grosso e kickstarter non serve kickstarter serve quando quando diciamo kojima rimane solo perché magari fa cose troppo foglie nessuno lo vuole più per qualche motivo e allora lì e forse avrà un giorno bisogno di del crowdfunding perché se no prima io penso che gli saltano addosso per dire far falla per me no certo queste grandi menti questi grandi geni ancora oggi sono attivi ciao